Ciao a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video Oggi andremo a fare un'analisi più dettagliata sullo stratwarming in atto come state vedendo qui nelle immagini e del vortice polare in che condizioni sta perché questo poi può influenzare il clima proprio sul nostro paese Ben ritrovati a tutti in questo video Adesso iniziamo subito per iniziare a vedere come sarà la situazione meteorologica nei prossimi giorni Bene, partiamo però facendo un passo indietro perché partiamo sì nel giorno di oggi ma andando a analizzare cosa accade a 30.000 metri quindi nella stratosfera Ebbene a 30.000 metri un fortissimo surriscaldamento della stratosfera andrà a indebolire il vortice polare non a spezzarlo ma a indebolirlo molto e anche a spostarlo abbastanza rispetto a come dovrebbe essere Carissimi, le statistiche mi dicono che ben il 64% di voi guarda i miei video e non sono iscritti, siete troppi Se apprezzate i video e il mio impegno datemi una mano iscrivendovi e attivando la campanella così da arrivare a 40.000 iscritti entro l'arrivo della primavera Vi ringrazio e adesso proseguiamo con il video E come si può vedere proprio sulla Siberia arriveranno temperature addirittura positive fino anche a più 4 gradi anomalie fino anche a 80-90 gradi mentre invece sull'Europa il vortice polare si sposterà portando termiche comprende tra la meno 60 e la meno 80 poi questo start warming inizierà ad indebolirsi ricordo che non vuol dire che se c'è a meno 80 gradi e a 30.000 metri ci sarà del gelo estremo sulla nostra penisola o in generale sull'Europa ma solamente è un segno che a 30.000 metri il vortice polare entra in difficoltà visti più 4 gradi sulla Siberia e quindi questo può far sì che arrivi del gelo sull'Italia e sull'Europa come tra poco andremo a vedere e questo start warming come si può vedere inizierà a perdere forze insomma a tornare un po' nella normalità la cosa a partire tra verso il 10-15 di gennaio quando ci saranno gli effetti sulla nostra penisola? eccola, adesso andiamo subito a vedere scusate se per un attimo non vedete bene ma è per facilitare la cosa eccoci qua qua siamo invece a vedere come sarà la situazione proprio sul nostro paese in maniera più dettagliata partiamo qua con i gelo potenziali come si può notare il vortice polare rimane comunque bene o male molto compatto poi andiamo ad analizzare soprattutto la pressione ma anche andare nello specifico sulle temperature il vortice polare ricordo che è questo vastissimo campo di bassa pressione che scorre sui due estremi sui due lobby sui due estremi scusate del nostro globo sul vortice polare polare quindi il nostro e il vortice polare subpolare quindi al polo sud ecco come sarà la situazione? bene il vortice polare come si può vedere durante questo inverno come abbiamo anche visto è stato spesso molto molto compatto però qualcosa inizierà a cambiare soprattutto a partire dalla giornata del 5 quando questo promontorio di alta pressione si inizierà a innalzare proprio dall'Atlantico fino a raggiungere la Groenlandia e l'Islanda questo favorirà una discesa d'aria molto fredda di origine nord atlantica sul nostro paese qua poi ci sarà la svolta perché questo promontorio inizierà a mettersi in mezzo tra il vortice polare canadese e quello siberiano così da scenderli, da dividerli quali effetti avremo sull'Italia? sull'Italia avremo gli effetti dell'arrivo di area molto fredda proveniente proprio dalla Siberia qua come si può notare il lobo si andrebbe a dislocare proprio dalla sua zona spostandosi fino alle porte dell'Italia con termiche fino anche a meno 20 a 1500 metri ovviamente stando agli ultime missioni l'Italia dovrebbe essere colpita da questa eruzione ma bisognerà aspettare per vedere con precisione la cosa con l'evolversi del modello addirittura qua stiamo vedendo uno scenario catastrofico per il vortice polare con una vera e propria divisione in tre parti questo, quello canadese che bene o male rimane più compatto ma invece quello siberiano si dividerebbe a sua volta in due lobby questo qui che si trova vicino all'Europa un altro che si trova sopra la Cina questo andrebbe a favorire l'arrivo di altre aree molto gerene non escludiamo anche l'arrivo del Bunan perché in queste condizioni il vortice polare essendo così debole ci sono scambi di meridiani molto molto potenti come si può anche vedere da queste immagini insomma facendo un breve riassunto questo stratwarming andrà a cambiare le sorti di questo inverno almeno soprattutto nei primi 15 giorni nei primi 20 giorni di gennaio non solo in Italia ma anche in Europa dove qui è attesa una delle eruzioni d'aria fredda più forti degli ultimi anni anche sull'Italia sarà così come un fere di neve? ebbene bisognerà aspettare ma i modelli sono molto positivi e sperano in tutto questo io vi ringrazio della visione se volete rimanere aggiornati su questo argomento mi invito ad iscrivervi al canale se non mi piace attivare la campanella rimanere sempre aggiornato grazie a tutti